Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Beat in questa puntata parleremo di un dispositivo che è abbastanza antico che è usato ancora in applicazioni molto molto rare e che ha fatto però la storia addirittura dell'informatica stiamo parlando della valvola la valvola è la nonna del transistor il transistor è l'evoluzione della valvola ed effettivamente funziona come il transistor amplifica dei segnali elettrici oppure funziona da interruttore on off è un dispositivo abbastanza grosso perché non è piccolo come il transistor le valvole hanno dei volumi ragguardevoli è abbastanza fragile perché tipicamente è fatta di vetro e il funzionamento è tutto sommato semplice raccontato in teoria cerco di farvelo il più semplice possibile in modo tale che si possa capire come funziona praticamente la valvola ha una parte alta dove c'è una piastra elettrica una parte bassa dove c'è un ricettore e in mezzo c'è una specie di piastra che fa da interruttore chiamiamola così noi applichiamo un segnale sulla piastra più alta tipicamente questa piastra qui diventa rossa perché si scalda moltissimo e emette degli elettroni il fatto di essere incandescente a questo punto noi possiamo gestire il flusso degli elettroni dalla piastra più in alto alla parte più in basso con la piastra che sta in mezzo a seconda della tensione che noi diamo alla piastra in mezzo passeranno di più o di meno elettroni dall'alto verso il basso quindi è abbastanza semplice capire che se vogliamo usarla come interruttore noi alla parte in mezzo non diamo tensione o diamo tensione nell'attimo in cui diamo tensione gli elettroni passano e viene generata una corrente abbiamo fatto un interruttore statico perché non si è mosso niente soprattutto comandato elettricamente se invece noi vogliamo usarla come amplificatore la questione è abbastanza semplice anche qui praticamente a seconda di quanta tensione noi diamo alla piastra in mezzo la quantità di elettroni cambia di conseguenza se noi diamo un piccolo segnale che è la nostra sorgente alla piastra in mezzo questo segnale varia nel tempo a seconda di quanto varia gli elettroni passano o non passano e sono direttamente proporzionali quindi noi riusciamo a avere in uscita un segnale che è lo stesso segnale ma amplificato in potenza questa cosa si usa ancora e si può trovare a prezzi molto molto alti negli amplificatori audio per gli audiofili perché è risaputo che il suono generato dall'amplificazione della valvola è molto più caldo di un suono generato dall'amplificazione fatta con un transistor il transistor funziona in modo leggermente diverso ne parleremo poi in un'altra puntata ma la valvola genera un suono più bello da ascoltare gli amplificatori a valvola sono bellissimi da vedere perché hanno queste due valvole una per il sinistro e una per il sinistro che quando sono accese diventano rosse per l'incandescenza tenete conto che un amplificatore di questo tipo costa davvero parecchi soldi più di un amplificatore a transistor e hanno potenze molto più basse la valvola ovviamente consuma di più del transistor come dispositivo ricordatevi che senza la valvola non ci sarebbe stata l'evoluzione ora che c'è dei transistor fa quasi ridere hanno reso abbastanza bene in ritorno al futuro un esempio non so se avete visto ritorno al futuro parte terza sulla DeLorean sul cofano c'è un enorme circuito fatto di valvole che non è altro che lo stesso circuito di un piccolo chip che si era fuso in uno dei viaggi voi tenete conto dei chip che c'erano all'epoca del primo film di ritorno al futuro ora che cosa ci sta nei chip quanti transistor sono comunque tutti che si potrebbero esprimere in valvole in palazzi interi perché le valvole occupano davvero davvero tantissimo spazio spero di avervi dato un'infarinatura spero che la cosa sia abbastanza chiara sul funzionamento di questo dispositivo storico è tutto sommato molto interessante vi ringrazio per l'ascolto vi ricordo che mi potete trovare al sito www.pilloledibit col punto prima delete dove potete lasciare i commenti gli stessi commenti li potete lasciare su iTunes e poi tutti i contatti i crediti sono tutti sul sito per la parte audio eccetera grazie per l'ascolto e alla prossima puntata grazie per la visione